Le torride temperature di fine maggio non hanno impedite a 260 atleti, 220 uomini e 40 donne provenienti da tutta la Puglia di sfidarsi nella suggestiva location delle cave di Apricena, nel Foggiano, per l'ottava Corrincava. L'evento, patrocinato dalla Fidel Foggia e dagli enti locali in ottemperanza con le norme sanitarie anti-Covid, ha visto i runners che si sono sfidati su un percorso misto asfalto e sabbia per 13 chilometri, partendo dal centro della città foggiana per proseguire all'interno della cava di Apricena. Per gli uomini si è imposto Domenico Ricati, dell'AS di Terra dello Sport, con il tempo di 46 minuti e 11 secondi, Argento e Bronzo, rispettivamente a Vitolo Conte e Matteo Mimma, entrambi della Downia Running Foggia, che hanno chiuso i 13 chilometri in 46 minuti e 56 secondi e 48 minuti e 30 secondi. Tra le donne, sul gradino più alto del podio, Raffaella Filannino, della Downia Running, con il crono di 56 minuti e 45 secondi, secondo posto col tempo di un'ora e 0,1 per Francesca Caputo, della Running Club Torre Maggiore e Bronzo, Maria Gagliardi della Puglia Marathon, che ha fermato il cronometro a un'ora e 0,2. I prossimi eventi podistici in Puglia saranno il 2 di giugno, Corri San Pietro in Lama, circuito Salento Gold 2022, il prossimo 5 giugno la Corsa Campestre Città di Brindisi e la 10 chilometri serali a Capurso nel Barese il prossimo 12 di giugno.